E' arrivato dal Brasile adesso, no? E' una mosca, purtroppo nemmeno Maurizio Mosca. Gli amici dicono che è troppo buono, i nemici dicono che è troppo. Pippo Franco, pseudonimo di Franco Pippo, romano, attore e presentatore televisivo. Non ha quindi il nome d'arte, ma firma prendendo sempre il cognome come i carabinieri. Quando stanno dicendo arriva al mare e divide le acque come Mosè. Con Depardieu è fatto il Sirano, nella parte del naso. Signor Spencer, è vero che quando lei praticava la palla a nuoto la scambiavano sempre per la boa? Signor Franco, nel 79 lei cantava Mi scappa la pipì papà. A distanza di 13 anni ci può dire come è andata a finire? L'ha fatta? Signor Spencer, lei è stato il primo nuotatore italiano a scendere sotto il minuto nei 100 stile libero. Quanto impiegherebbe adesso a scendere sotto i 100 chili? Signor Franco, è vero che il noto presentatore Maurizio Costanzo la prima volta che le mise il naso in Rai inventò il titolo Cosa c'è dietro l'angolo? Aum 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 Aum